Era il 18 ottobre 2016 quando Paola Marzenta imbracciò il fucile ed esplose un colpo fatale contro il marito. Adesso per la donna è arrivata la sentenza definitiva, 14 anni di reclusione. La Cassazione ha infatti confermato il verdetto della Corte d'Appello di Firenze arrivato un anno e mezzo fa con una condanna quasi raddoppiata rispetto al primo grado di giudizio, 8 anni di reclusione. La difesa della donna sperava in uno sconto di pena che non è arrivato nonostante l'accoglimento di uno dei due motivi del ricorso l'avvenuto risarcimento ai familiari della vittima. L'omicidio avvenne nell'ottobre 2016 all'Onnano, al culmine dell'ennesima lite tra i due coniugi che si stavano separando. Solamente qualche giorno dopo infatti si sarebbe celebrata l'udienza per il divorzio. Quella sera di Nogori, 64enne pensionato ex maresciallo dell'aeronautica, era seduto a tavola nella propria abitazione quando fu raggiunto da un colpo di fucile esploso a bruciapelo che non gli lasciò scampo. Dopo il delitto la donna all'epoca 59enne chiamò illegale e poi carabinieri di Prato Vecchio. Alla base del folle gesto ci sarebbero stati liti i conflitti e stando a quanto raccontato in seguito dalla donna anni di violenze.